Politica botta e risposta tra frattura e la maggioranza. Non sono ostaggio di nessuno, questa la replica del governatore del Molise a fronte delle accuse mosse dal vicepresidente del Consiglio regionale Cristiano Di Pietro. Sarei pronto a dimettermi laddove ci fossero realmente pressioni dalla maggioranza, ha ribadito frattura. Gamma ha sospeso lo sciopero dei lavoratori, le maestranze e i sindacati hanno raggiunto un accordo con i vertici aziendali per un acconto di 900 euro sulle spettanze arretrate. Sul fronte ETR gli ufficiali giudiziari hanno posto i sigilli ad un magazzino dell'azienda Tessile di Pettoranello del Molise. Concluse indagini su assenteisti Asrem e Falsicechi, terminata l'operazione condotta dai carabinieri del NAS su mandato della procura di Larino. 34 gli avvisi di notifica di conclusione delle indagini. Per tutti gli indagati è stato chiesto il processo e l'udienza preliminare potrebbe essere fissata a settembre. Termo di calcio presentata alla nuova squadra, progetto giallorosso molto ambizioso, chiari gli obiettivi della società che guarda la Lega Pro. Tanti tifosi accorsi a sostenere il team che si appresta a disputare un campionato di vertice. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. La politica in Molise sembra non voler andare in vacanza. Continui e fitti sono gli sfoghi degli esponenti del centro-sinistra. Il governatore Paolo Di Laura Frattura è intervenuto in merito ad alcuni attacchi lanciati sul social network Facebook, precisando si sta in maggioranza per scelta e si è liberi di uscirne. Sentiamo. Il presidente della regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, non è rimasto a guardare le accuse mosse dei suoi consiglieri che sono corse sul filo del web. Facciamo una breve sintesi di quanto avvenuto. Due giorni fa l'esponente dell'Udeo, Nunzia Lattanzio, ha definito indecente il DDL firmato dal governatore da Vincenzo Nero sulle modifiche allo statuto che aprono al quinto assessore. Di tutta risposta Cristiano Di Pietro, vicepresidente del Consiglio regionale, ha affermato che il presidente stesso è vittima di pressioni da parte di potentati della maggioranza. Davanti a tutto questo chiacchierare, Frattura ha subito voluto chiarire la questione, ammettendo di non essere ostaggio di nessuno e che chi non si sente a suo agio è libero di lasciare la maggioranza in consiglio, maggioranza che oltretutto si riunirà questo pomeriggio. Frattura ha tenuto a ribadire che all'interno della sua coalizione non ci sono patentati di nessuna natura. Se mai mi dovessi sentire obbligato, ha continuato il governatore, chiuderei la partita in pochi secondi dimettendomi senza pensarci due volte. Parole secche decise quelle del governatore che mai, come in questo momento, sente addosso la forte pressione del ruolo importante che riveste. Intanto le attività a Palazzo Moffa continuano. Per lunedì, 12 agosto, è previsto infatti un nuovo consiglio regionale. Le vacanze estive per i politici nostrani tardano quindi ad arrivare. Forse, Frattura e suoi, vogliono stringere i tempi per la modifica statutaria, dunque per l'ingresso del quinto assessore? Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno. Il sottosegretario di Stato Sabrina De Camillis, in una nota, ha ringraziato l'operato di Ulisse e di Giacomo che ha lasciato il coordinamento regionale del Popolo della Libertà. Con la sua iniziativa, ha dichiarato la parlamentare di Giacomo, intende favorire il processo di ricostruzione della nuova Forza Italia, di cui egli sarà certo protagonista. In questi anni, ha concluso la De Camillis, con il suo operato di Giacomo ha sempre rappresentato quei valori che contraddistinguono la nostra identità politica e di questo l'intero partito ne prende atto. E torniamo ora a parlare delle spese folli dei gruppi consigliari della regione Molise. Le indagini della Guardia di Finanza continuano senza sosta e a poco a poco si avvicinano alla fase conclusiva. Sentiamo le ultime novità nel servizio di Vania Cristinziano. L'importante svolta nelle indagini della Guardia di Finanza sulle spese folli dei gruppi consigliari comincia a dare suoi frutti. Tanti gli esponenti politici coinvolti che dovranno rispondere di reati come truffa, peculato e appropriazione indebita. Oggi ci occupiamo dell'esponente del PDL Michele Picciano, ma ricordiamo i fatti. Qualche giorno fa gli inquirenti hanno chiesto il sequestro cautelativo di beni immobili, ovvero le abitazioni, e immobili, ovvero le automobili e motocicli, per un ammontare di 150.000 euro dove risulta indagato per favoreggiamento una concessionaria di automobili del capoluogo attraverso il controllo sui conti correnti. L'ex consigliere si sarebbe appropriato di una somma considerevole per effettuare alcune spese proprie che sembrerebbero ammontare in totale a 290.000 euro, mentre solo 150.000 sono stati garantiti dalla misura fiscale. Si tratta di Michele Picciano, ex presidente del Consiglio regionale, nonché presidente di Molise Acque. Pesanti sono le accuse delle fiamme gialle nei confronti del politico che dovrà rispondere del reato di peculato. Praticamente l'esponente del PDL avrebbe utilizzato soldi pubblici dei contribuenti del Molise per spese private. Continua naturalmente l'attività investigativa, mentre l'indiziato in questione sta provando a spiegare e a confutare la ricostruzione degli investigatori. Questa si presenta come una goccia nel mare delle spese folli sostenute dai gruppi consigliari ai danni degli ignari cittadini da parte di alcuni politici che hanno approfittato per anni della loro posizione per condurre una vita ancora più agiata ai danni però della comunità. Nei prossimi giorni daremo altri nomi sull'intrecata vicenda. Ferragosto è tempo di scampagnate. Proveremo noi a condire l'arrosto sulla braccia della politica molisana. Cambiamo argomento. Importanti novità sono emerse per lo zuccherificio del Molise e per l'intero settore bieticolo saccarifero regionale nella riunione convocata dal governatore Paolo di Laura Frattura. Puntiamo e lavoriamo, assicurato il presidente, per la crescita e rafforzamento e la qualità dell'intero comparto. Nei prossimi giorni dunque si andrà a definire l'attuazione completa degli accordi sindacali già siglati con le organizzazioni di categoria. Il 20 agosto invece si terrà un primo incontro tra le parti per la definizione degli accordi interprofessionali per la campagna 2014. Il nostro obiettivo principale a concluso Frattura resta l'estensione significativa della coltivazione della barbabietola nel nostro Molise, così da poter superare anche i costi del trasporto. E torniamo ora a parlare della GAM sospeso, lo sciopero dei lavoratori dell'azienda avicola di Monteverde di Boiano. Dopo il vertice in prefettura, la GAM ha assicurato loro un anticipo di 900 euro delle spettanze arretrate. Sentiamo. 900 euro di anticipo sulle spettanze arretrate rappresentano una vera e propria boccata d'ossigeno per i dipendenti della GAM, che a seguito del tavolo in prefettura hanno deciso di sospendere lo sciopero e di far ripartire la produzione nello stabilimento avicolo di Boiano. Due ai termini dell'intesa, il primo siglato con i vertici della GAM che hanno deciso di dare l'acconto sugli stipendi arretrati, accordo garantito dal direttore generale Giallorenzo e dal capo del personale Petrarca. Il secondo punto dell'intesa è stato raggiunto grazie all'intervento dei vertici dell'Inps e riguarda l'erogazione della cassa integrazione. Da lunedì, contando 20 giorni, ha precisato Mariano Russo, sindacalista della CISL, i lavoratori avranno la cassa integrazione del mese di giugno accreditata sul conto corrente. Si proseguirà poi con quella di luglio. L'assessore al lavoro Petrarroia presente al tavolo in prefettura ha poi spiegato come riuscire a sveltire le pratiche per l'erogazione della cassa integrazione nel caso in cui l'azienda optasse per la forma di pagamento diretto. La procedura consisterebbe nel fare un elenco dei lavoratori specificando il numero di ore di cassa integrazione di cui hanno beneficiato nei mesi di giugno e luglio, in modo tale da permettere loro di ottenere le risorse economiche nel giro di 15 giorni lavorativi. Intanto il governatore Frattura ha ribadito la volontà di rilanciare un piano industriale continuando a cercare manifestazioni di interesse da parte di investitori privati per garantire un futuro all'azienda vicola e ai suoi dipendenti. Resta ancora l'incognita dei trasportatori e degli allevatori che ancora avanzano crediti dalla GAM. Previsto tra pochi giorni un nuovo tavolo tecnico anche per i fornitori. Ancora problemi per l'ITR. Un contenzioso con la Maison Ferré avrebbe fatto scattare i sigilli a un magazzino con dentro capi di abbigliamento per un valore complessivo di 5 milioni di euro. A far visita all'azienda di Pettoranello gli ufficiali giudiziari del Tribunale di Isernia. Nel frattempo il patron Antonio Bianchi ha rispettato gli accordi presi in prefettura saldando ai dipendenti la mensilità di giugno. Sentiamo Arianna Gentile. Il patron Bianchi ha rispettato gli accordi presi lunedì in prefettura con le RSU e sindacati territoriali. L'imprenditore dell'ITR ha infatti provveduto a pagare la mensilità di giugno nella giornata di mercoledì l'acconto di 500 euro ieri in anticipo rispetto alla tempistica pattuita il saldo. La notizia è stata resa nota dalle rappresentanze sindacali che continuano a confrontarsi con Bianchi per discutere anche della questione della cassa integrazione e dunque dei criteri di rotazione. È tornato così a splendere il sole sull'azienda tessile di Pettoranello neanche per sogno perché da un paio di giorni in ambienti interni allo stabilimento circola la voce dell'arrivo di un ufficiale giudiziario del Tribunale di Sernia che avrebbe posto i sigilli a un magazzino contenente merce per un valore di 5 milioni di euro. Si tratterebbe di un sequestro preventivo relativo a un contenzioso tra ITR e la Maisonferré. Contenzioso che potrebbe andare a buon fine dal momento che tra le due società ci sarebbero già state prove di dialogo per una soluzione bonaria. Comunque tale problema pare non aver avuto ripercussioni sull'attività produttiva dell'azienda alle prese con il confezionamento dei capi della collezione autunno-inverno. Trasferiti dalla regione Molise 2,2 milioni di euro sul fondo per lo sviluppo e la coesione alla contabilità del commissario straordinario Rosario De Matteis, presidente della provincia di Campobasso, per il completamento della fondovalle del Rivolo. A seguito della firma Palazzo Magno sono giunte le risorse garantite dal governatore Paolo Di Laura Frattura per i due interventi infrastrutturali in cantiere. Il pagamento trasmesso alla tesoreria della regione sarà a disposizione dell'amministrazione provinciale già dal prossimo lunedì. Notificati negli ultimi giorni 30 avvisi di conclusione delle indagini a carico di altrettanti dipendenti ASREM accusati di truffa e falso e 4 avvisi ai falsi ciechi beneficiari di pensione e di invalidità. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del NAS su un mandato della Procura della Repubblica di Larino. Vediamo. Sono 34 le persone accusate del reato di truffa aggravata e falso. 30 i dipendenti assenteisti dell'ASREM di Termoli che timbravano il cartellino e sistematicamente si allontanavano dal posto di lavoro per andare a fare shopping o a prendere il sole in spiaggia. 4 i falsi ciechi che per anni hanno beneficiato di pensioni di invalidità nonostante riuscissero addirittura a guidare autovettore. Per tutti gli indagati, inchiodati da accurate ricostruzioni e filmati, il PM Luca Venturi, magistrato titolare di entrambi i fascicoli, ha chiesto il processo. I carabinieri del NAS su un mandato del Procuratore Capo della Repubblica di Larino, Ludovico Vaccaro, hanno notificato gli avvisi di conclusione delle indagini ai 30 dipendenti ASREM e ai 4 falsi ciechi, tutti residenti in Molise, tra Termoli, Larino e Montenero di Bisaccia. A questo punto, visto la celerità nell'invio dei provvedimenti giudiziari recapitati ai 34 indagati, il giudice per le indagini preliminari di Larino dovrebbe fissare già nella prima metà di settembre la data per l'udienza preliminare dei due distinti procedimenti, stabilendo in quella sede se andare avanti con il processo. Ipotesi molto probabile, visto il supporto fondamentale per entrambi i fascicoli di materiale video e prove schiaccianti. Risale al 15 marzo 2012 il primo blitz del NAS di Campobasso, guidato dal capitano Forciniti, che inchiodava gli assenteisti degli uffici amministrativi di Via del Molinello e dell'ospedale di Termoli. 52 gli indagati, poi ridotti a 30, accusati dei reati di truffa e falso. Un'indagine che ha generato sgomento e incredulità nella cittadina adriatica. Stessa sorte per i quattro falsi invalidi residenti a Termoli, Casa Calenda e Morrone del Sannio, che incassavano ogni mese un assegno da 700 o 800 euro tra pensione di invalidità civile, pensione di accompagnamento e pensione riservata ai non vedenti. Per loro l'accusa è di truffa aggravata e falso ideologico. Secondo gli investigatori, il loro operato ha sottratto negli anni al sistema sanitario e pensionistico oltre 250 mila euro. Una truffa per la quale, così come per quella sull'assenteismo, i 34 indagati dovranno rispondere in un'aula di tribunale. A rischio il finanziamento per gli interventi di sistemazione del Biferno tra la diga dell'Iscione e la foce del fiume, quanto emerso dalla riunione di ieri tenutasi a Roma e convocata dal sottosegretario di Stato Sabrina De Camillis. Un incontro positivo che però ha visto confermato il rischio della perdita del finanziamento, ha commentato il sindaco di Termoli, Antonio Di Brino. Tra le soluzioni possibili vi è quella di coinvolgere il Ministero dell'Ambiente. E ringrazio il sottosegretario De Camillis per aver raccolto la mia sollecitazione e resterò vigile al fine che venga trovata una soluzione in tempi brevi. Ha poi concluso il sindaco di Termoli. Il Museo di Santa Maria delle Monache di Zernia resterà chiuso nel mese di agosto, a deciderlo il direttore Gino Famiglietti. Contrario al provvedimento, il sindacalista Emilio Izzo da sempre attento allo sviluppo del territorio della provincia Pentra. Sentiamo Livia Garofalo. In una nota inviata da Emilio Izzo, il quale si è sempre battuto per il ben della città di Zernia, si evince con sorpresa che Gino Famiglietti, direttore del Museo Santa Maria delle Monache di Zernia, avrebbe deciso di chiudere il museo per tutto il mese di agosto. I commenti del sindacalista Emilio Izzo. Credo che si commenti da sola, innanzitutto perché la mancanza di personale non è di oggi evidentemente. Se c'è una carenza personale c'è già da anni, quindi un provvedimento preso oggi si capisce che è pretestuoso. E poi chiudere d'agosto fa capire anche quali sono le reali intenzioni di questa dirigenza. Non dimentichiamo che un anno fa, quando è stata aperta l'unica sala del Paleolitico, una parte del personale di Santa Maria delle Monache è stato portato lì. E non mi pare che in questo anno siano successe delle catastrofi o qualcosa di diverso. Già allora il direttore Famiglietti però chiuse, e questa è l'opinione pubblica evidentemente non è a conoscenza, chiuse Santa Maria delle Monache nella giornata di domenica e anche il pomeriggio del sabato. Adesso chiude tutto il mese di agosto. La domanda è e sorge spontanea, ma se chiudiamo un museo nel mese di agosto, non è questa la premessa per chiuderlo sempre, ma vorrei anche aggiungere. Ha esperito qualche tentativo il direttore Famiglietti con le parti sociali, le organizzioni sindacali, le istituzioni sul territorio per capire cosa fare, se realmente questo è il problema, perché da quello che mi risulta regione, province e comune possono sedersi a un tavolo e capire cosa fare. Anzi, lo dico sin d'ora, visto che il sottoscritto non è ben amato, mette a disposizione la propria disponibilità per tenere aperto quel museo, anche se non sono un custode. Sono disposto a fare anche altre cose che non mi pare, voglio dire, che siano poco dignitose per la persona. Anzi, credo che la maggiore dignità sia quella di tenere aperto un museo per la collettività. Lo stesso Izzo sollecita l'intervento delle istituzioni che sembrerebbero non siano state avvisate dallo stesso sommintendente del provvedimento di chiusura. Il prefetto, il sindaco che già mi ha assicurato questa sua disponibilità, il presidente della regione e il presidente della provincia devono chiedere un tavolo alla direzione regionale per i beni culturali, unitamente alle parti sociali, quindi alle organizzazioni sindacali e capire come si può fare per superare questa fase che lui dice di difficoltà, ma è una fase di difficoltà che dura da anni. E le soluzioni sono sul tappeto. La prima è proprio quella che dicevo, dare la disponibilità dei dipendenti, come dire, a dare una mano al personale di sorveglianza. Si rinnova a Ripa Bottoni il prossimo sabato 10 agosto alle ore 21, il consueto appuntamento estivo all'insegna della cultura. L'evento scrittori live promosso dall'associazione socioculturale Tito Barbieri di Ripa Bottoni, ideato da Gabriella Iacobucci, presidente dell'Associazione Molise d'Autore, si svolgerà nella suggestiva piazzetta di Via Paolo Gamba e vedrà in scena sei narratori molisani, unitamente ai musicisti Tiziano Palladino e Fabrizio Di Scienza, finalista della categoria Strumento Musicale Classic nel concorso iTalent di Molise TV. E passiamo ora allo sport, giornata decisiva, questa almeno si spera per conoscere le sorti del calcio a campo basso. Nel pomeriggio di ieri un nuovo incontro tra il sindaco del capologo Gino Di Bartolomeo, l'assessore allo sport Aldo De Beneditti, se alcuni componenti del comitato avrebbe portato buone possibilità ai Rosso Blu di disputare il massimo torneo regionale. Ammesso che si trovi un accordo con la dirigenza del Campobasso 1919, che però resta ben salda nella sua posizione. Intanto per il città di Campobasso si prospetta anche una seconda chance, ovvero la Santeliana, il cui titolo è già stato bloccato. Un termoli molto ambizioso, quello presentato ieri presso il Lido Calasveva, non nasconde i propri obiettivi, spinto dall'entusiasmo dei tifosi e dei nuovi acquisti. Sentiamo. Ieri sera grande entusiasmo per la presentazione del nuovo termoli calcio di Mr. Trilini presso il Lido Calasveva. Molte facce nuove in questa stagione 2013, ma l'ossatura è quella della passata stagione. Un giusto mix tra giovani e giocatori di esperienza, in grado di garantire una squadra ben equilibrata e capace di trasformarsi in base agli avversari. Dopo la brillante prestazione con il Pisa e la meno incoraggente amichevole di ieri con il Bisceglie, finita a 2-0 per i pugliesi, la domanda che alleggia nelle menti dei tifosi è la seguente. Dove possono arrivare i giallorossi quest'anno? La società non nasconde i propri obiettivi, infatti lo slogan apparso ieri in grande alla presentazione è Riproviamoci, con una grande C che svetta sulle altre lettere. A riguardo sentiamo il presidente Nicola Cesare, che abbiamo intercettato per voi. Diciamo che con grandi sacrifici pensiamo di aver allestito una buona squadra, ma soprattutto si stanno vedendo i miglioramenti organizzativi, quindi credo che nel tempo avremo grandi soddisfazioni. Poi lo sport è sport, però penso che possiamo fare quantomeno un campionato molto competitivo. Presidente, ci saranno nuovi colpi? Possiamo far sognare i tifosi del Termoli o siamo a posto così? Noi oggi abbiamo giocato, abbiamo perso in amichevole con gli amici del Bisceglie, ma quello dipende dalla preparazione e da tante cose. Due o tre giocatori di livello sono arrivati negli ultimi due giorni, quindi queste partite servono per provare. Però la squadra ha un'ossatura importante, insomma abbiamo preso pure Genchi ultimamente, l'attacco è molto forte, la difesa è buona. Credo che dobbiamo fare ancora qualche piccolo colpo sugli under, anche se oggi è arrivato un altro 96 molto forte, per cui è arrivato un terzino sinistro sicuramente in categoria superiore. Ci sentiamo tranquilli e sereni per l'ottimo lavoro svolto, per un budget sicuramente importante, ma comunque nel rispetto delle nostre possibilità. Siamo quattro molisane nello stesso girone, il Termoli non deve fare la corsa chiaramente sulle molisane, ai quali auguro chiaramente di fare un grande campionato, però speriamo di arrivare prima di loro, perché se no puntare in alto sarà dura. Una buona cornice di pubblico all'evento, tra tifosi, curiosi, addetti a lavori e dirigenti. Non sono mancate anche figure istituzionali, come il presidente della provincia dei Matteisi, il presidente del Consiglio regionale Niro e l'assessore allo sport Parpiglia. Alessandro Cesaroni è il nuovo direttore sportivo del Boiano, il dirigente che ha avuto importanti esperienze con il Celano, il Teramo e la Sant'Egidiese, avrà il compito di far decollare il mercato dei matesini. Proprio l'ingresso di Cesaroni potrebbe favorire il ritorno in regione di Matteo Monti, ex Trivento e Campobasso, in forza al Celano nella passata stagione. L'esterno sinistro si è già allenato con i Biancorossi nei giorni scorsi. L'Isernia sta continuando la preparazione insieme a Mr. Ren, il nuovo tecnico ha tutta l'intenzione di portare avanti un buon lavoro con i suoi e non a caso ha voluto fortemente in squadra un giocatore a lui noto, ovvero Giovanni Tufano, ex Vico Equenze. Conosciamolo meglio anche noi in questa intervista. Mr. Ren ha tutte le intenzioni di fare bene con la sua Isernia per il prossimo campionato e non a caso ha voluto fortemente portare con sé un giocatore di esperienze che conosce molto bene, ovvero Giovanni Tufano, ex Vico Equenze. Giovanni Tufano, un nuovo ingresso qui all'Isernia. Benvenuto in Molise. Hai già avuto modo di conoscere un po' i tuoi compagni. Quali sono le sensazioni tue iniziali? Innanzitutto grazie per il benvenuto. Sì, diciamo che l'impatto è stato molto positivo anche perché comunque ci siamo 6-7 persone che già ci conoscevamo prima, quindi conosco anche il mister, quindi non è stato difficile ambientarmi. Le sensazioni sono positive e speriamo che possano continuare più a lungo possibile. Lo scorso campionato hai giocato nel Vico Equenze, insomma sappiamo un po' qual è stata la stagione della squadra. Cosa ti porti dentro e che vuoi portare anche come incoraggiamento ai tuoi compagni? Porto dentro? Beh, tanta delusione per il comportamento della società, però sicuramente c'è tanta rabbia di voler continuare a fare bene come si stava facendo là. Purtroppo abbiamo interrotto prima questa esperienza. Diciamo l'auspicio è proprio questo, di continuare a fare bene come abbiamo sempre fatto sia io che gli altri ragazzi che stanno qua. Tu il mister Reina già lo conoscevi. Se dovessi descrivercelo a noi molisani, che lo conosciamo ancora poco. Io ti dico la verità, tre anni fa ho avuto l'esperienza di stare con lui e devo dire la verità ho avuto un impatto abbastanza positivo, nel senso che comunque è un mister moderno, nel senso che comunque cerca sempre di far giocare la palla. E poi diciamo c'è una dote che l'ho sempre riconosciuta, anche quando non stavo con lui, che lui è un maestro sulle palle inattive. Quindi oggi il calcio, la maggior parte delle partite si decidono proprio sulle palle inattive. Quindi se saremo bravi su questo possiamo fare bene. Quali sono invece le tue aspettative personali? Pensi di crescere ancora qui a Iserro? Guarda, io con l'età avanza, sono in classe 78, quindi spero di giocare ancora più a lungo possibile perché mi sento ancora bene e voglio giocare ancora per tanto tempo. Ripeto, se l'esperienza era positiva a me farà piacere continuare, però intanto iniziamo a fare bene e poi dopo parleremo del futuro. Per quanto riguarda la Rosa, un nuovo importante ingresso potrebbe essere rappresentato dal difensore Cagliazza. Del resto era proprio questo ruolo che mancava ad una squadra improntata a far bene. Intanto non c'essa il lavoro neanche sul fronte Juniores. La mission della società bianco-celeste è infatti quello di scovare nuovi talenti del posto che possano contribuire a rendere il prossimo campionato ben più tranquillo e sereno rispetto allo scorso. Questo era il nostro ultimo servizio e vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Il meteo è offerto da Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella Naturalmente bella Naturalmente bella A Campobasso, in via Campania 215 Previsioni del tempo per sabato 10 agosto. La prima parte di giornata sarà instabile con piogge temporali. Migliora nel corso della serata con fenomeni in esaurimento e ritorno a cieli poco o parzialmente nuvolosi. Venti in ulteriore rinforzo dai quadranti nord-occidentali sino attesi con mari tendenti ammossi. Temperature inapprezzabile calo, vediamole. Campobasso minima 17, massima 23 gradi. Isernia minima 15, massima 23. Termoli minima 24, massima 27 gradi. Il meteo è stato offerto da Al di là delle parole, se riuscirai a comprendere il significato reale di bellezza, arte e scultura, riuscirai a creare armonie e colori intensamente surreali da esprimere il proprio essere. Naturalmente bella, naturalmente bella, naturalmente bella. A Campobasso, in via Campania 215. A Campobasso, in via Campania 215. A Campobasso, in via Campania 215. A Campania 215. A Campania 215. A Città 215. Grazie.